Musica Ben ritrovati dal Tg Veneziano, il presidente della regione Luca Zaia questa mattina ha inaugurato all'angelo di Mestre la nuova app dedicata all'ospedale e una nuova PET macchinario attivato nel reparto di medicina nucleare e il governatore non manca di chiedere agli utenti dell'Ulst 3 serenissima pazienza, i dati oggi sono positivi la regione destinerà i 70 milioni di euro per acquisti di nuove tecnologie la strumentazione inaugurata all'ospedale dell'angelo è l'ultimo prodotto di General Electric primo esemplare di questo modello ad essere installato in Italia la spesa è stata di 1,7 milioni di euro provenienti da alienazioni Nuova vita alla Pilkington di Porto Marghera l'azienda specializzata nella produzione di vetro ultra chiaro per l'edilizia e l'industria ferma dal 2012 ieri in conferenza stampa a Caffarsetti è stata annunciata la ripresa dell'attività un importante risultato per l'area industriale e per i 130 lavoratori attualmente in contratto di solidarietà che verranno così riassorbiti oltre a 50 nuove assunzioni un risultato raggiunto in sinergia tra il Ministero dello Sviluppo Economico le istituzioni locali quindi Regione e Comune di Venezia e i sindacati un progetto di investimento forte a dimostrazione che il sistema Venezia funziona bene perché Regione e Comune dialogano e perché è rivolto allo sviluppo così ha sottolineato Simone Venturini Assessore allo Sviluppo Economico del Comune pensiero sottoscritto anche dall'assessore regionale Elena Donazzan il cambio di passo ha detto c'è stato da quando l'amministrazione con il sindaco Luigi Brugnaro ha dichiarato che Porto Marghera dovesse tornare ad essere un'area industriale di primo livello e parliamo ancora di lavoro o meglio di una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro l'alternanza scuola lavoro consiste proprio nella realizzazione di percorsi progettati sotto la responsabilità delle scuole con le imprese, le associazioni, le camere di commercio oltre 200 sono stati gli studenti delle scuole del territorio veneziano inseriti questa volta negli uffici del Comune nell'ufficio relazioni con il pubblico per le politiche internazionali ma anche in settori ben più tecnici come lo sportello per le autorizzazioni edilizia 6 e quello dedicato al servizio logistica e gestione del personale della polizia locale così i ragazzi affiancano il personale e acquisiscono competenze sul campo nel Comune di Venezia ad essere accolti abbiamo detto ben 200 studenti numero che è raddoppiato rispetto all'anno scolastico precedente rimaniamo a Porto Marghera intervento dei vigili del fuoco ieri verso le 15 alla raffineria Eni un principio di combustione durante i lavori di manutenzione di una linea di trasferimento che però non ha avuto conseguenze né per i lavoratori e nemmeno per l'impianto passiamo invece adesso alla cronaca ieri pomeriggio in Viale San Marco a Mestre grazie ad un'anziana signora è finito in manette e poi messo ai domiciliari un diciassettenne mestrino che aveva appena commesso uno scippo ai danni di un'altra residente ad incastrarlo è stata proprio la puntuale e dettagliata descrizione fornita dall'anziana signora che ha assistito allo scippo perpetrato dal minorenne in sela alla sua bicicletta bloccato dalla polizia mentre tentava di allontanarsi il giovane è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva che è stata poi riconsegnata alla legittima proprietaria scontro fra tre mezzi due camion e un doblò questa mattina intorno alle 11 in autostrada a 4 in direzione Trieste i veicoli sono entrati in contatto tra loro due persone coinvolte sono rimaste ferite soccorse sono state trasportate all'ospedale di San Dona code di due chilometri con rallentamenti e adesso invece parliamo ancora di Venezia e del magico periodo del carnevale un corteo appunto magico vanitoso sabato ha dato il via ai festeggiamenti del carnevale migliaia di veneziani e turisti assiepati sulle rive per la grande festa sull'acqua barche tradizionali e maschere una lunga sfilata con il canal grande illuminato dal meraviglioso corteo tema di questa edizione di Creatum è stata la vanità quella degli abissi tra ballerine farfalle con ali tempestate di luci acrobazie in volo con un pallone aerostatico meduse ondeggianti e mangiafuoco di tutt'altro genere il corteo acqueo di domenica mattina è aperto dalla pantegana gigante dalla sua esplosione di coriandoli oltre 100 le barche coinvolte e più di 500 vogatori vestiti nei costumi della commedia dell'arte e altri invece in abiti rinascimentali presentate anche le dodici marie ovvero le ragazze ritenute più belle tra le candidate corteo acqueo percorsi enogastronomici con frittelle e vin brulè ora invece ci dedichiamo ad una iniziativa benefica e ad una bicicletta particolare vediamo il servizio sabato nella suggestiva cornice di Castelbrando si è tenuta la festa dell'amicizia moda and service una iniziativa benefica promossa dal Rotary Treviso Piave insieme ad altri Rotary nonché Lions e Panathlon alle 18 l'evento è stato caratterizzato dalla sfilata di moda dei capi realizzati dagli allievi di una scuola di Marghera alcune creazioni sono state poi offerte per la raccolta di denaro dei service da realizzare durante la serata è stata consegnata la bicicletta degli abbracci Ag Bike offerta al centro di formazione professionale rappresentato dal dottor Flavio Pavanello che ha sede presso l'associazione La Nostra Famiglia Conegliano centro di riabilitazione per disabili la bicicletta degli abbracci ha detto Alberto Cais presidente della Onlus per l'autismo oltre il labirinto è completamente assemblata dai ragazzi autistici del villaggio di Godega di Sant'Urbano una bicicletta speciale un'opportunità unica di pedalare in tandem con il guidatore che siede sul sellino posteriore e abbraccia il passeggero disabile un'opportunità di godersi una rilassante e sicura pedalata in compagnia Questa era la nostra ultima notizia oggi San Valentino un abbraccio a tutti gli innamorati anche da parte di Caffè TV 24 con il Tg di Venezia vi do appuntamento a giovedì grazie per essere stati con noi Grazie a tutti Grazie a tutti.